dove ci sono costi ci siamo ancora credibile e io vado sempre dalle parti posteriori per a filmare se di quello che vuoi ma vitto cosa si deve fare di lì cosa hai preso per vedere bene la strada massi dai via che tanto peggio di così grazie se siete arrivati qua adesso manca poco questi in sci li ha arrovinati